La manifestazione 2015 di Aders Art Fair all'Excarcere Le Nuove quest'anno ha importanti novità. Mantiene le tre sezioni Adersound, Aderscreen, Adersstage, ha un ampliamento di spazi fino ad arrivare a 64 espositori di cui un buon 40% stranieri ed è una cosa che ci rende onore, senza contare le collaborazioni con il Fondo Mondrian di Amsterdam, che quindi è una collaborazione che va verso i collettivi di artisti, era Artist Run Spaces internazionali, quindi olandesi e non. Tu calma, ok, pensa, tanto è un montaggio, quindi vai tranquillo. Di Aders Fair all'Excarcere Le Nuove quest'anno, la domenica, mantiene l'orario dalle 12 alle 22, giornata prolungata, anche per dare la possibilità alle famiglie di venire con i figli, poiché grazie al nostro partner Fila avremo due laboratori per i bambini dai 6 ai 12 anni e non solo, l'associazione Outsider del Cottolengo farà per i bambini non solo, delle visite guidate con una sorta di percorso sensoriale e musicale. Quest'anno di Aders si sdoppia, è forse la novità più importante dell'edizione 2015. Di Aders, oltre alla Fiera alle Scarcere Le Nuove, ha deciso di fare una mostra in città, nel centro della città, ma soprattutto per la città, durante gli stessi giorni della fiera, all'Exborsa Valori di Perzale Valdofusi, che è stata data in concessione dalla Camera di Commercio di Torino. Questa mostra ha al suo interno 32 opere di artisti, non solo che arrivano dagli espositori in fiera, ma anche da realtà torinesi, quali gallerie, associazioni e fondazioni, che hanno risposto in maniera molto positiva a questo progetto. Queste 32 opere all'interno dell'Exborsa Valori, che è uno spazio di mille metri quadri, sono letteralmente opere unlimited, fuori formato. Passiamo dalle opere di grande, grandissimo formato, a delle statuine alte 5-10 cm. Il fatto che queste opere siano unlimited in uno spazio così grande, fanno sì che, per l'appunto, lo spazio con le opere possa dialogare, lasciando la possibilità al pubblico di interagire con queste opere a 360 gradi. Grazie per la visione!